L'esercizio, dice il citato Agnolo Pandolfini, conserva la vita, accende il caldo e il vigore naturale, schiuma superchie e cattive materie e umori, fortifica ogni virtù del corpo e dei nervi, è necessario a giovani, utile ai vecchi, colui che non faccia esercizio, che non vuol vivere sano e lieto. Socrate, si legge, in casa ballava e saltava per esercitarsi. La vita modesta, riposata e lieta fu sempre ottima medicina alla sanità. La temperanza e l'esercizio del corpo sono dunque i due perni su cui la salute si aggira. Ma avvertite che quando eccede, cangiata in vizio alla virtù, si vede, impero che, le perdite continue dell'organismo hanno bisogno di riparazione. Dalla pletora per troppo nutrimento, guardatevi dal cadere nell'eccesso opposto di una scarsa e insufficiente alimentazione per non lasciarvi indebolire. Durante l'adolescenza, ossia nel crescere, l'uomo ha bisogno di molto nutrimento. Per l'adulto e specialmente per il vecchio, la moderazione nel cibo è indispensabile virtù per prolungare la vita. A coloro che hanno conservata ancora la beata usanza dei nostri padri di pranzare a mezzogiorno o al tocco, rammenterò l'antichissimo adagio, post-prandium stabis est post-cenam ambulabis. A tutti, poi, che la prima digestione si fa in bocca, quindi non si potrebbe mai abbastanza raccomandare la conservazione dei denti per triturare e macinare convenientemente i cibi che, con l'aiuto della saliva, si digeriscono assai meglio di quelli tritati e pestati in cucina, i quali richiedono poca masticazione. Riescono pesanti allo stomaco, come se questo viscere sentisse sdegno per avergli tolto la parte del suo lavoro. Anzi, molti cibi, reputati indigesti, possono riescire digeribili e gustati meglio mediante una forte masticazione. Se con la guida di queste norme saprete regolar bene il vostro stomaco, da debole che era il renderete forte e, se forte di natura, tale il conserverete senza ricorrere ai medicamenti. Rifugite dai purganti, che sono una rovina se usate di frequente, e ricorrete ad essi ben di rado e soltanto quando la necessità il richieda. Molte volte le bestie, con il loro istinto naturale e forse anche col razziocinio, insegnano a noi come regolarci. Il mio carissimo amico Sibillone, quando prendeva un'indigestione, stava un giorno o due senza mangiare e andava a smaltire sui tetti. Sono quindi da deplorare quelle pietose mamme che, per un'esagerazione del sentimento materno, tengono gli occhi sempre intenti alla salute dei loro piccini e ad ogni istante che li vedono un po' mogi e non obbedienti al secesso, con quella fisima sempre in capo dei bachi, il quale più sovente non sono che nella loro immaginazione, non lasciano agire la natura che, in quella età rigogliosa ed esuberante di vita, fa prodigi lasciata a se stessa, ma ricorrono subito al medicamento, al clistere. L'uso dei liquori, che a non estare in guardia diventa abuso, è riprovato da tutti gli igienisti per i guasti irreparabili che cagionano nell'organismo umano. Può fare eccezione soltanto un qualche leggero poncino di cognac, sia pure con l'odore del rum e le fredde serate d'inverno, perché aiuta nella notte la digestione e vi trovate la mattina con lo stomaco più libero e la bocca migliore. Male, male assai poi fanno coloro che si lasciano vincere dal vino. A poco a poco sentono nausea al cibo e si nutrono quasi esclusivamente di quello. Indi si degradano agli occhi del mondo, diventano ridicoli, pericolosi e bestiali. C'era un mercante che quando arrivava in una città si fermava ad una cantonata per osservare la gente che passava e quando vedeva uno col naso rosso era sollecito a chiedergli dove si vendeva il vino buono, anche passando sopra al marchio di intemperanza che questo vizio imprime spesso sul viso e a certe scene che destano soltanto un senso di larità, come quella di un cuoco il quale, mentre i suoi padroni aspettavano a cena, teneva la padella sopra l'acquaio e furiosamente faceva vento al di sotto. È certo che quando vedete questi beoni che con gli occhi imbambolati, mal pronunciando l'erre, dicono e fanno sciocchezze spesso compromettenti, vi sentite serrare il cuore, nel timore che non si passe alle risse e dalle risse al coltello, come avviene sovente. Persistendo ancora in questo vizio brutale, che si fa sempre più imperioso, si diventa ubriaconi incorreggibili, i quali tutti finiscono miseramente. Neppure sono da lodarsi coloro che cercano di procrastinare l'appetito con gli eccitanti, impero che se avvezzate il ventricolo ad aver bisogno di agenti esterni per aiutarlo a digerire, finirete per isnervare la sua vitalità e l'elaborazione dei succhi gastrici diverrà difettosa. Quanto al sonno e al riposo, sono funzioni assolutamente relative da conformarle al bisogno dell'individuo. Poiché tutti non siamo ugualmente conformati, esegue talvolta che uno si senta un malessere generale e indefinibile senza potersene rendere ragione e questo da altro non deriva che da mancanza di riposo riparatore. Chiudo la serie di questi precetti gettati giù così alla buona e senza pretese, coi seguenti due proverbi tolti dalla letteratura straniera, non senza augurare al lettore felicità e lunga vita. Proverbio inglese Coricarsi presto ed alzarsi presto fanno l'uomo sano, ricco e saggio. Proverbio francese Se le ve assi, degenia dix, dinia si, se cucia dix, fa vivere l'uomo dix fois dix. Alzarsi alle sei, far colazione alle dieci, pranzare alle sei, coricarsi alle dieci, fa vivere l'uomo dieci volte dieci.